salve a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video di disassembly oggi andiamo a smontare un samsung galaxy a 22 5 g come vedete qua dalla sua scatola e andiamo a sostituirgli il display lo smontaggio ragazzi non differisce molto da tutti gli altri samsung solida back che andremo a rimuovere previo riscaldamento del telefono però quello che mi premeva verificare è la compatibilità dei display perché su un'inserzione specificavano proprio un ricambio che la versione del flat era djn quando lo andai a comprare e su altri e invece su altre inserzioni invece non dicono niente c'è scritto txd e volevo capire se le due versioni sono compatibili o meno quindi sono curioso di vedere cosa troverò qui per poi vedere di conseguenza anzi trarre le nostre conclusioni comunque andiamo a scaldare e sollevare la becca io già l'ho scaldata un po quindi dovrebbe venire via bene fare attenzione qui che c'è un fletto diciamo che il via recivo si è staccato un po alla come voleva lui è un pezzo sopra un pezzo sotto ragazzi poteva fare di meglio sicuramente ok ragazzi tolta la back cover un po di piaccio è rimasto da queste parti però vado subito a vedere questa cosa del set vi posterò anche delle foto in turi a cui ci deve essere scritto txd o tgn ma vedere che a questo giro non c'è scritto assolutamente nessuna delle due quindi proveremo questo flat e vediamo un po come va allora smontiamo tutte le viti una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci 11 12 13 15 16 rimosso già il carrello sim una mette in pausa al video da notare comunque come è stato piegato questo flat davvero insolita o è stato già aperto questo telefono non credo veramente piccato ma malamente ovviamente sopra a tutto c'è il flat dell'impronta che poi ragazzi è solo il flat dell'impronta perché poi il tasto è lateralmente installato mamma mia quanti viti ok mi sembra di averle tolte tutte no allora mi sa che sono anche più ragazzi queste viti ok ora mi sembra di averle tolte tutte posso ridirlo andiamo a separare il middle frame dal telaio bisogna stare attenti perché comunque abbiamo i fletti in vista ok una volta che ci siamo fatti in strada poi non dovrebbe essere più un grosso problema vi ricordo sempre di indossare gli occhiali protettivi che non fa mai male vi vedo che non li state indossando allora qui a questo punto se abbiamo tolto tutte le viti dovrebbe venire via ok guardate quanto è particolare questo flat allora vado prima a staccarmi il connettore dell'impronte così almeno non ci dà più fastidio eccolo qua poi la batteria va sopra tutto è anche molto lungo comunque a questo punto ragazzi direi che proviamo lo schermo se poi lo schermo funziona possiamo andare anche belli spediti allora ok inserito incrociamo le dita accendo un secondo due secondi tre secondi quattro secondi cinque secondi si è acceso e già questa cosa non è male ok il touch comunque sembra andare bene però prima di fare tutte le cose lo andiamo a testare se si apre il menu di test perché io l'avrei digitato ragazzi però magari non l'ha capito stacchiamo la batteria stacchiamo il display e ora lo mettiamo da una parte a questo punto ragazzi andiamo a rimuovere tutto come al solito allora andiamo un po andiamo a staccare anche questo ovviamente ragazzi non l'ho specificato ma il ricambio è originale service pack il nero va sopra il bianco va sotto ecco l'acqua scheda madre rimossa queste potremmo anche non toglierle ma comunque mettiamola da una parte se volete ve la mostra che da vicino se magari vi può servire per qualche esperimento ok andiamo a confrontare i ricambi per vedere quello che dovremmo fare allora sicuramente bisognerà spostare la batteria il telaio si mi sembra uguale qualche scritta non è uguale tipo questa cioè s 96 01 si poi sotto a dc 12 si poi m2 e qui m7 v2 marcato 2022 01 16 questo 2022 09 10 più recente qui troviamo sensore di umidità anche qui qui va messo lo speaker quindi bisogna spostarlo fotocamera non c'è il gommino del sensore di prossimità si infila e via bene bisognerà rimuovere i tasti ok sotto bene per lo speaker non bisogna fare niente spostiamo solo il tasto vibrazione e la doc e poi togliamo la batteria va bene dai adesso piano piano facciamo tutto direi che si potrebbe anche fare queste operazioni mentre lo scaldiamo vedete meglio e faccio meglio anch'io forse anzitutto togliamo i quassiali e togliamo la doc che credo sia semplicemente inserita senza particolari archibugi flat potremmo anche toglierlo però nel mentre sapete cosa faccio schizzo un po di alcol isopropilipo sotto alla batteria in modo che si sciolga un po la colla batteria che va messa quasi a toccare in basso a vederla da come da come questa allora qui dicevamo ci sono viti non sembrano esserci viti quindi potremmo anche tirare su eccolo qua infatti è venuto via rimuovo il retro per fare sempre vedere come è fatto quindi bisogna togliere il motorino della vibrazione poi qui ci sta qualche altra cosa da togliere no allora morire una vibrazione adesso penso che quasi possa togliersi perché siamo quasi in temperatura eccolo qua tolto e lo vado subito a posizionare ragazze perché sennò queste cose poi si perdono almeno una volta rimesso nel suo posto ok bene poi ci sarebbe da togliere la batteria che non so quanto sarà facile speriamo di sì eccola qua con un po di calore è venuta via molto 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 bene fantastico davvero ottimo e quindi ci sono rimasti i tasti laterali che non so come mai questa volta samsung non abbia messo il flat ma sicuramente la parola d'orore risparmio quindi cosa si fa va scollato questo fletta con delicatezza una volta che avete aperto una fessura vi consiglio una pinza piatta che è meglio poi piano piano andata avanti a notare la cosa curiosa che ha due buchi per in centrarlo e questo da samsung comunque riconosco che fanno le cose con cognizione di causa per per alcuni potrà sembrare una scemenza ma invece non guardatevi che vuol dire che è ragionata seppur hanno scelto di non mettersi il set ok come al solito sfrutto subito l'occasione e vado a inserire il set sul nuovo ricambio che come vedete appunto vi dicevo a questi due bei buchini che ci aiuteranno a capire dove posizionare il flat avrò posizionato bene credo di sì ma ok 1 e 2 perfetto mi vado a riposizionare anche da quest'altra parte spengo il calore perché è un po to match ok anche qua vedo che ci sono dei fori sopra e sotto a sinistra e a destra che vi fa vedere dove dovete posizionarvi ragazzi questi sembrano cavolate ma vi assicuro che vi facilitano una cosa e poi arriviamo al tasto dolente ovvero la rimozione dello speaker e generalmente la faccio al microscopio perché voglio vedere bene come si solleva vi dico che dovete entrare piano piano scaldare e sollevare adesso credo che anche questa volta otterò per il microscopio ma solo per una questione ragazzi che non ne ho un altro di ricambio quindi non possiamo sbagliare tra virgolette allora il il nuovo ricambio ha il biadesivo sotto quindi quando voi staccate lo speaker potete anche lasciare il biadesivo sotto il cavo del mio microscopio sta andando la luce non funziona più ok ragazzi il verso dello speaker è questo però ecco basta semplicemente scaldare bene sollevare piano 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 e eccolo qua e lo mettete sull'altro vedete che sotto c'è rimasto il biadesivo quindi travasatelo la retina è pulita in entrambi i telefoni perfetto io direi ragazzi che ci siamo quasi nel senso non vedo particolari altre cose da spostare tasti travasati questo c'è 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 comunque ricambio originale ragazzi è anche comoda questa cosa che già trovate questa gommina che per metterla vi devo dire che non è proprio una passeggiata se dovete fare uno swap ok questo lo vado a riposizionare qua perfetto batteria se sotto dei residui di colla vi invito a rimuoverli ma non mi sembra che ci siano però diciamo che quando abbiamo fatto 30 facciamo 31 ovviamente puliamo batteria abbiamo detto in basso ok non la schiaccio al momento perché qualora mi servisse di ritirarla su non non dovrebbe servire ma però inizie finali ok questa qui la scheda abbiamo detto che non ha guidi e c'era quindi si rimette in questa sede via prima il bianco poi il nero questo me lo ricordo ok ok qui è messo giù bene a questo punto rimetto la copertura pulisco un attimo la fessura delle casse e ok rimettiamo questo qui facendolo incastrare il qualsiasi è messo bene quindi si incastra prima a destra ok ora si che ci è andata perfetto riavvito batteria 2022 primo gennaio no gennaio 21 gennaio 2022 ok questi abbiamo avvitati ora prendiamo la scheda madre ricollochiamo riflettere e alziamo tutti ragazzi ok acqua ecco ok vado a rimettere anche queste fotocamerine se vedete a sinistra una sporgenza e secondo me va messa prima a sinistra quindi di lato e poi fatta scendere infatti va giù meglio fatto questo rimettiamo i passi aria bianco sopra che c'è scritto white black che fortuna a meno che non sia bianco no ragazzi in inglese ok questo fatto qualsiasi rimessi ricolleghiamo il doc eccolo qui bel click colleghiamo le lcd bel click colleghiamo la batteria bell click e a questo punto ricolleghiamo il flat dell'impronta che è veramente fatto cioè ragazzi io non riesco a concepirlo veramente come sia stato progettato ok allora quindi vado a ricollegarmi questo flat che tra l'altro c'è stato piegato anche male è anche difficile rimetterlo perché è piegato male se non vado errato stava così però potremmo anche fare una cosa meglio credo no lo pieghiamo così come dovrebbe essere cioè secondo me ragazzi va messo così comunque lo rinfilo prima dal basso vado a salire sugli angoli qui ok ok un bel click bel click ok tasti scrivono tutti alla perfezione a questo punto puliamo un attimino col coton fioc ok così il biadesivo aderisce bene perfetto un po sporchino era poi vediamo se dovremmo andare a mettere del biadesivo allora qui una piccola striscia di biadesivo la metterei a questo punto fino alla vite e dall'altra parte alla fine c'è quindi non la mettiamo però qui manca e quindi la mettiamo poi ragazzi quando si scalda probabilmente va a posto però nel dubbio tanto ce l'ho meglio metterlo però prima di metterlo cosa faccio prima di metterlo metto in carica il cellulare verifico gli assorbimenti della carica diamo un po ok 1,64 ampere cinque volte quindi sta caricando bene non so perché questa volta mi sia arrivato con la pellicola ruina così tutta mezza rovinata però ok va bene il carico l'assorbimento è giusto quindi procediamo a avvitare le viti tra che carica approfitto avvito almeno ottimizzo le cose avanzerà qualche vite ragazzi a volte capita ma cioè generalmente no perché se le mettete come le metto io cioè sui tappini specialmente tappini bianchi mi raccomando perché se utilizzate tappini colorati di altri colori c'è il rischio che qualcosa potrebbe non ribattere ecco qua ragazzi ok allora io ragazzi comunque per non saperne leggere e scrivere vorrei fare una modifica a questo perché così c'è veramente il rischio di tranciarlo quindi ci metto del nastro capton sopra perché non mi piace cioè secondo me cioè così è pericoloso se invece mettiamo del nastro capton ma proprio una scemezza facciamo molti meno danni credo che secondo me così top credo sia meglio cioè nella mia modesta opinione allora 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 si vado a mettere questo vilesivo vilesivo 3m perfetto e ragazzi a questo punto se volete prima di mettere la back fate un test finale del cellulare se no potete anche richiudere e via adesso vado a rimettere la back cover e poi siamo pronti e vado ad incollare la nostra back a questo punto va fatto a scaldare un po aderire bene in modo tale che poi ci serve quindi non vi resta che attendere appunto il serraggio della back e siete a posto display comunque cambiato perfettamente adesso vedete qui questa pellicola rovinata ma purtroppo è arrivata così questa volta al di là di questo se ci sono domande e dubbi postate pure un commento qua sotto nel video ed io vi risponderò nel più breve tempo possibile in descrizione trovate sempre il link degli attrezzi tool display che ho utilizzato per qualsiasi cosa scrivete se il video ti è piaciuto mette un like iscriviti al canale ed attiva la campanellina per restare sempre aggiornato sulle novità che posso di volta in volta io vi ringrazio per la visione e ci vediamo presto con un nuovo video ciao ragazzi ciao